Ora abbiamo sicuramente questi quattro ragazzi a dare una mano per cercare di fare il giro di ritorno nel miglior modo possibile. Gennaro è un ritorno completamente libero, era già con noi all'umanità, conosciamo già le sue qualità e sicuramente ci darà un apporto importante per la scuola. Poi abbiamo voluto andare a rinforzare il parco di giocatori Under, prendendo tre ragazzi che arrivano tutti e tre da società professionistiche, abbiamo Guida che ha fatto Rentella e Livorno, abbiamo Morelli che arriva da Lecce e poi abbiamo qua le Francende che arriva dall'Aiaccio, dopo aver fatto tutta la scuola del settore giovanile con l'Inter Marsiglia. Quindi sono giocatori importanti che sicuramente ci daranno un contributo durante il giro di ritorno che sarà una battaglia ogni domenica. Grazie.